Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questo caso ci presenta un errore giudiziario davvero drammatico. Un travagliato percorso di lotta per ottenere giustizia, rivelando la vulnerabilità del sistema legale. È la fine del 1979 e ci troviamo a Southampton, una città situata nella contea dell'Amshaw, nel sud dell'Inghilterra. Qui vive Teresa Elena De Simone, una donna di 22 anni, nata il 24 giugno 1957. I suoi genitori si chiamano Mary Sedotti e Mario De Simone e si separano quando Teresa è molto piccola. La madre si risposa con un uomo di nome Michael, che quindi diventa il patrigno di Teresa. In ogni caso, entrambi i genitori sono fedeli alla religione cattolica, dunque la bambina frequenta abitualmente la chiesa. Per il resto, online, non sono disponibili tante informazioni su Teresa e sulla sua adolescenza. Si sa che diventa una ragazza amichevole, anche se talvolta può risultare un po' timida e tranquilla e viene descritta come gentile e sensibile. All'età di 22 anni, Teresa lavora a tempo pieno per la Southern Gas Board, durante il giorno, mentre la sera, per due volte alla settimana, è impiegata come barista part-time nel pub Tom Tackle, che ora si chiama Mayflower Village, in Commercial Road a Southampton. Teresa ha cominciato questo secondo incarico da poco più di un mese, perché ha bisogno di ulteriori entrate. Infatti ha appena comprato una macchina nuova, una Ford Escort, e ha fatto un finanziamento che deve riuscire a sostenere. La ragazza confida molto nel suo lavoro di barista, anche perché spera che l'aiuti a fare nuove amicizie, a uscire dal suo guscio di timidezza. Una barista deve saper essere socievole e lo quace con i clienti, e Teresa prende a chiacchierare con molti di loro durante i suoi turni. Il giorno in cui ha origine il caso di cui vi parlo in questo video, Teresa sta proprio lavorando al pub Tom Tackle. È martedì 4 dicembre 1979, una sera come tutte le altre. Poi, alle 23, il suo turno lavorativo finisce, il pub è in chiusura, ma Teresa vuole proseguire la serata. Ha in programma di uscire con la sua amica Jenny per festeggiare il suo compleanno. Jenny va a prendere Teresa nel parcheggio del pub e insieme si dirigono verso una discoteca che si trova sulla London Road, a Southampton, a meno di un miglio dal pub Tom Tackle. Qui le ragazze si divertono davvero moltissimo. Nessuna delle due beve alcol, perché devono guidare entrambe, ma loro non hanno bisogno di certo di ubriacarsi per passare una splendida serata insieme. Chiacchierano e ballano per un paio d'ore. Poi, poco prima dell'una di notte, Teresa risale nella macchina di Jenny che la riaccompagna nel parcheggio sul retro del pub, riservato soltanto al personale impiegato nel locale. È lì che, infatti, anche Teresa ha posteggiato la propria auto. In realtà, Jenny accosta il suo veicolo appena fuori dall'area di parcheggio e le due ragazze chiacchierano un po'. Infine, Teresa esce dalla macchina e saluta Jenny e si avvia verso la propria automobile per tornare a casa. Un brevissimo tragitto. Eppure, Teresa, quella notte a casa non ci arriverà mai. La mattina del 5 dicembre, la mamma di Teresa, Mary, si alza e nota che il letto di sua figlia è vuoto e ancora in perfetto ordine. Senz'altro, lei non era incasata la notte precedente. Mary si allarma immediatamente e chiede a suo marito Michael, il patrigno di Teresa, di recarsi al pub Tom Tackle in cerca della ragazza. Michael vi si dirige subito, ma non scorge traccia di Teresa. Tuttavia, la sua macchina è ancora nell'area di parcheggio riservata al personale, sul retro del pub. Forse, pensando che Teresa fosse già altrove, Michael non si avvicina nemmeno al veicolo per dare un'occhiata, ma torna a casa per riferire la situazione a Mary. Se però, Michael fosse stato più scrupoloso, avrebbe scoperto la terribile verità sul motivo per cui Teresa non è tornata a casa dopo la notte fuori. Quando Michael si è già allontanato, il proprietario del pub, un uomo di nome Anthony Pook, arriva al Tom Tackle perché sta aspettando una consegna da un birrificio. Anthony vive proprio sopra il pub e verso le 10 di quel mercoledì mattina raggiunge il parcheggio sul retro per aspettare il furgone delle consegne. Anche lui si rende conto che il veicolo di Teresa, la Ford Escort, è ancora parcheggiato lì e la considera una bella seccatura, perché la macchina della sua dipendente sta occupando proprio il posto in cui dovrebbe fermarsi il furgone per scaricare la merce. Sperando di poterla spostare da sé, l'uomo afferra la maniglia scoprendo così che il veicolo non è stato chiuso. Ma quando dà un'occhiata all'interno, Anthony si trova di fronte a una scena orribile. Il corpo di Teresa di Simone giace senza vita sul sedile posteriore. La ragazza è stata brutalmente assassinata e lasciata all'interno della sua macchina. Anthony, assalito dal panico, chiama immediatamente la polizia che accorre sulla scena del crimine. Teresa è sdraiata sulla schiena, una delle due gambe è leggermente piegata ed è quasi del tutto nuda. Al seno sinistro scoperto, le calze le sono state abbassate e non indossa più le mutande, che vengono trovate sotto il sedile. La polizia intuisce immediatamente che l'assassino è stato spinto da un movente sinistrale. Durante l'autopsia, infatti, viene accertato che Teresa è stata vittima di un'aggressione intima brutale. Presenta anche delle abrasioni sul collo, di cui una a forma di crocifisso. E in effetti Teresa indossava una collana d'oro con un ciondolo di questo tipo, anche se gli agenti non riescono a trovarla. E a dirla tutta, pure altri oggetti di Teresa sono spariti. Alcuni gioielli, il suo orologio da polso e le chiavi della macchina. Questo sembrerebbe indicare un altro movente, ovvero quello della rapina. Il patologo conclude che Teresa è morta a causa di uno strangolamento lungo e lento, attuato mediante una delle cinture di sicurezza della macchina. L'esperto colloca la morte di Teresa tra l'una e le due della notte, a cavallo tra il 4 e il 5 dicembre. Quindi la ragazza è stata uccisa poco dopo che la sua amica, Jenny, l'aria accompagnata nei pressi del parcheggio del pub. La polizia ipotizza che l'assassino stesse già osservando Teresa. Così, quando l'amica si è allontanata, il colpevole ha raggiunto Teresa e l'ha colpita. La polizia dell'EMSHA avvia un'indagine per omicidio, aprendo la caccia all'uomo. Bisogna trovare il sadico predatore responsabile di questo efferato crimine. Una squadra forense esamina la scena in cerca di prove all'interno dell'auto di Teresa. Intanto la famiglia della giovane vittima viene avvisata della tragica notizia e vengono raccolte le dichiarazioni di tutti coloro che facevano parte della sua vita. Parenti, amici, colleghi di lavoro, sia del pub che della Southern Gas. Inoltre la polizia interroga gli abitanti della zona in cui è avvenuto il delitto, nella speranza che abbiano visto o sentito qualcosa di sospetto. Oltre a ciò la polizia allestisce un'unità mobile vicino alla scena del crimine, in prossimità del pub, posta al servizio di chiunque avesse informazioni da fornire. La polizia decide anche di filmare una ricostruzione dei movimenti di Teresa di quella notte, avvalendosi di un agente che assomiglia alla vittima e che ripercorre i suoi ultimi spostamenti, dal pub alla discoteca fino al rientro nel parcheggio. I video e le foto della ricostruzione vengono rilasciati al pubblico, nel tentativo di ricevere indizi. Il caso di Teresa viene riportato su tutti i giornali e questa attenzione mediatica potrebbe incrementare le probabilità che si delineino delle piste valide su cui indagare, grazie alla collaborazione dei cittadini. La polizia prende in esame ogni singola segnalazione e analizza alcuni uomini, ma alla fine li esclude tutti per incompatibilità con il gruppo sanguigno dell'aggressore. Infatti, la polizia è riuscita a stabilire il gruppo sanguigno dell'autore del reato, perché la povera Teresa aveva subito violenza intima, quindi sono state trovate tracce seminali dell'assassino sul corpo della vittima. Dobbiamo però ricordare che siamo nel 1979 e la polizia non ha gli strumenti per utilizzare al meglio queste prove. L'analisi del DNA e la tecnologia forense non sono ancora delle pratiche sviluppate. Pertanto, i campioni raccolti non consentono di identificare l'assassino tramite il suo profilo genetico. Tuttavia, esaminando le sue tracce seminali, gli scienziati hanno scoperto che l'assassino è un secretore, cioè un soggetto che secerne antigeni del sangue attraverso i fluidi corporei e nello specifico un secretore del gruppo sanguigno A, che è piuttosto raro. Quindi la polizia ha fatto prelevare un campione di sangue da tutti gli uomini che si sono fatti avanti. Avete capito bene? Sì, perché ci sono delle persone che si sono auto-accusate del delitto pur essendo innocenti. Forse soggetti problematici, in cerca di visibilità. In ogni caso, se fossero risultati dei secretori e appartenenti al gruppo sanguigno A, come l'assassino, la polizia avrebbe potuto indagare su di loro in qualità di potenziali sospettati. Gli esami effettuati, però, hanno escluso questa possibilità, in assenza della necessaria corrispondenza. Nell'arco di un anno, circa 300 uomini si sono detti coinvolti nell'omicidio di Teresa, ma la polizia non ha mai potuto collegarli al caso. E, onestamente, è assurdo che così tanti uomini abbiano deciso di confessare un crimine che non avevano commesso. Purtroppo, i mitomani esistono, anche se di solito cercano di infiltrarsi nei casi di alto profilo fornendo dichiarazioni false. Nel frattempo, dunque, le indagini sull'orribile omicidio di Teresa non hanno fatto progressi, ma, trascorso circa un anno dal delitto, una nuova confessione del crimine risalta agli occhi dei detective, perché sembra autentica. L'11 dicembre 1980, il 29enne Sean Oxton, detenuto della prigione di Wandsworth, nel sud ovest di Londra, chiede di parlare con un prete. Prima di rivelarvi il motivo per cui Sean è in carcere, vi parlo un po' di lui. È nato nel 1952 ed è originario della Contea di Durham, in Inghilterra. Proviene da una famiglia numerosa, non si sa molto sull'educazione che riceve. Tuttavia, è noto che, a soli 11 anni, Sean inizia a infrangere la legge. Commette dei crimini come furti o furti con scasso, viene mandato in un centro di detenzione minorile, poi, anche dopo il periodo riformatorio, continua a delinquere, macchiandosi di reati minori. Ci sono anche delle fonti che riportano che Sean viene arrestato pure per altri reati, come possesso di un'arma pericolosa e rapporti intimi illeciti. Quest'uomo, di conseguenza, è noto alla polizia. Alla fine del 1980 è stato condannato a tre anni di carcere per il furto di alcuni veicoli a motore, un crimine che ha commesso proprio a Southampton, la stessa notte in cui Teresa è stata uccisa. Tuttavia, fino a ora, i detective non lo hanno posizionato in cima alla lista dei loro sospettati, pur avendolo incluso nell'elenco. Ma, nel dicembre 1980, Sean si reca nella cappella della prigione di Wandsworth per parlare con il prete, padre Frank Moran, dicendo che vuole confessarsi. Sean gli racconta di essere un assassino. È lui il responsabile dell'omicidio di Teresa e spiega al sacerdote che questa giovane ragazza continua a fargli visita nei suoi sogni. Il volto della donna che ha ucciso lo tormenta e lui non riesce più a sopportarlo. È travolto dal senso di colpa, specialmente in questo periodo, dato che, da poco, è trascorso l'anniversario della sua morte. Sean non confessa questa sua verità soltanto a padre Moran, ma anche a un agente di custodia e a un compagno di cella. Allora la polizia viene contattata e accorre in prigione per interrogare il detenuto. Come previsto, Sean conferma anche ai detective di aver ucciso Teresa. Consegna una confessione scritta, che vi leggo subito. Dopo molte riflessioni e confessioni col prete qui a Wentworth, dopo tutti i guai che ho causato non solo alla polizia, ma anche a me stesso, e dopo la tortura mentale che ha subito la famiglia della persona interessata, devo confessare, principalmente per la mia sanità mentale e per ottenere una punizione per questo orribile crimine. Vorrei essere morto io, e non la persona che ha ucciso al pub Tom Tackle. Ho commesso io l'omicidio, il perché non lo so. Tutto quello che posso dire è che, finalmente, è stata fatta giustizia. I detective, per accertarsi della veridicità della sua dichiarazione, tornano alla prigione di Wentworth diverse volte e sottopongono il detenuto a vari interrogatori. Gli chiedono di fornire tutti i dettagli che riesce a ricordare sulla notte in cui Teresa è stata uccisa. Siccome questo caso è ancora irrisolto, gli inquirenti non hanno condiviso tutte le informazioni raccolte al pubblico, ai media e ai cittadini. Come spesso avviene in queste circostanze, la polizia non rende accessibili i dettagli per evitare che questi ultimi vengano riutilizzati o alterati da chi dice il falso. Dunque, se qualcuno si fa avanti dimostrando di conoscere tali dettagli segreti sul crimine, è probabile che sia davvero l'assassino, come sostiene. Stavolta la polizia crede di essere sulla strada giusta per ottenere giustizia. In precedenza, ogni rio confesso era stato smentito anche perché aveva raccontato dei dettagli che risultavano incoerenti con le scoperte dei detective sull'omicidio di Teresa. Al contrario, Sean fornisce in modo corretto delle informazioni che non sono mai state rese pubbliche, ad esempio sulla posizione in cui giaceva il cadavere della vittima, sulla sua macchina, sui gioielli a lei sottratti e sui vestiti che indossava. Allora sì, Sean Hawkson è davvero l'assassino che la polizia sta cercando da più di un anno. Inoltre, gli scienziati forensi prelevano un campione del suo sangue per esaminarlo e scoprono che ha lo stesso raro gruppo sanguigno dell'assassino. E poi, come detto, i detective sanno già che Sean aveva l'opportunità di commettere l'omicidio di Teresa perché si trovava a Southampton, la notte del delitto, per rubare delle auto. Insomma, la pista giusta sembra srotolarsi come un tappeto che finisce ai piedi di Sean che viene così accusato della violenza intima e dell'omicidio della 22enne Teresa di Simone. Eppure, nonostante la confessione rilasciata alla polizia, quando si svolge il suo processo all'inizio del 1982, Sean si dichiara non colpevole. Afferma di aver fornito una confessione falsa, di aver mentito, di essere un bugiardo compulsivo. Questa è la tesi che i suoi legali sostengono durante il processo. Sean ha problemi di salute mentale ed è affetto da un grave disturbo della personalità. Bisogna chiarire che i bugiardi patologici sono diversi dai bugiardi compulsivi. La difesa chiama sul banco dei testimoni un esperto il quale spiega che il bugiardo patologico mente sistematicamente per ottenere vantaggi personali o mantenere una certa immagine. Ad esempio, vuole mostrare agli altri di avere una vita emozionante, di intraprendere esperienze incredibili e avventurose, insomma, di condurre un'esistenza migliore di quella che è davvero. E, al contempo, spera di far ingelosire gli altri. Il bugiardo compulsivo, invece, mente impulsivamente e spesso in risposta a pressioni immediate o ansie del momento. Non altera la realtà con malizia o piena consapevolezza per ottenere dei benefici specifici, ma per una tendenza interiorizzata in risposta a determinati stimoli esterni. Questa abitudine a mentire nel bugiardo compulsivo solitamente viene assimilata durante l'infanzia, con le prime esperienze nel proprio sistema familiare, manifestandosi come una risposta automatica e istintiva a una difficoltà soggettiva che si avverte nell'affrontare e raccontare la realtà percepita. Quindi, Sean non accetta la sua realtà e, secondo lo specialista, va più correttamente definito come mitomane. Sean ha creato un'alternativa realtà fittizia. Un mito, una storia, confidando nelle proprie bugie e imponendo questa visione anche agli altri, convincendoli della loro fondatezza. Di solito, chi mente è consapevole delle proprie bugie, ma per chi soffre di mitomania, il confine tra bugie e realtà può diventare labile. I mitomani finiscono col credere davvero alle storie inventate che raccontano, visto che non riescono ad affrontare la realtà. Inoltre, Sean ha lottato contro l'autolimismo per gran parte della sua vita, che aveva già confessato molti crimini in cui non era coinvolto. Secondo un rapporto della polizia, Sean si era dichiarato colpevole persino di un omicidio che non si era mai verificato. Ricapitolando, il team della difesa di Sean sostiene che lui avesse mentito sul suo coinvolgimento nell'omicidio di Teresa a causa del suo stato mentale. Sean durante il processo non testimonia, ma rilascia una dichiarazione alla corte in cui dice Innanzitutto vorrei comunicare ai membri della giuria che non posso salire sul banco dei testimoni perché sono un bugiardo compulsivo. In secondo luogo, non ho ucciso Teresa De Simone. In terzo luogo, ogni volta che sono stato arrestato dalla polizia, ed è accaduto in molte occasioni, ho fornito false confessioni di crimini che non ho commesso. L'accusa, però, non gli crede. Insomma, Sean può pure ritrattare la sua confessione, ma resta il fatto che si trovava nella zona in cui Teresa è stata uccisa quella notte. L'imputato stava già commettendo un altro crimine, inoltre ha dimostrato di conoscere tutti i dettagli dell'omicidio. Dettagli che soltanto l'assassino poteva sapere. Questi elementi sono sufficienti per convincere la giuria della sua colpevolezza e al termine del processo, Sean Oxon viene condannato all'ergastolo per la violenza carnale e l'omicidio di Teresa De Simone. Quindi, si è trattato di un giusto verdetto? Beh, Sean continua a dichiararsi innocente e, insieme ai suoi avvocati, fa immediatamente ricorso contro la condanna. Ma viene respinto. L'uomo intenta numerosi ricorsi negli anni successivi, ma verranno tutti quanti rigettati dal giudice. Così resta dietro le sbarre per ben 27 anni e la sua salute mentale peggiora ancora. Sean soffre di depressione e viene tenuto costantemente sotto sorveglianza perché c'è il rischio che provi a togliersi la vita. A un certo punto, Sean viene addirittura trasferito nell'ospedale psichiatrico di Broadmoor perché afferma di sentire delle voci. Il viene diagnosticata la schizofrenia e trascorre circa 8 anni in questa struttura, poi viene rimandato in prigione. Nonostante la sua salute mentale sia fortemente compromessa, Sean continua irremovebilmente a dichiararsi innocente. L'avvenimento lo consuma, ma finalmente nel 2008 si accende un barlume di speranza nel tunnel buio ed esolato della sua esistenza. Dopo che Sean ha trascorso più di due decenni e mezzo rinchiuso in una cella, accade qualcosa. È marzo del 2008 e il detenuto sta leggendo un inserto di Inside Time, un giornale nazionale destinato appositamente ai carcerati, letto soltanto da loro. Sean si imbatte nella pubblicità di uno studio legale specializzato in errori giudiziari, con danni ingiuste e relativi appelli. Nonostante la disillusione, l'uomo contatta lo studio e chiede aiuto ai suoi avvocati per dimostrare la propria innocenza. I legali prendono in carico il suo caso e iniziano a indagare. Ormai siamo nel 2008, dunque la scienza forense e le tecniche di analisi del DNA hanno fatto molta strada dal 1979. Forse, adesso, sarà possibile dimostrare che Sean dice la verità, sfruttare le nuove tecnologie per ottenere finalmente una risposta certa sull'identità dell'assassino di Teresa Di Simone. Gli avvocati intendono esaminare le prove raccolte alla fine degli anni 70 per rianalizzarle tramite il test del DNA cioè campioni e tamponi prelevati dal corpo della vittima. Inizialmente la polizia afferma di temere che tutti i reperti del caso di Teresa siano stati distrutti già da tempo. Probabilmente agli occhi della legge quel caso è stato risolto negli anni 80 con la condanna all'ergastolo di Sean. quindi non c'è motivo di rimetterlo in discussione. Tuttavia gli avvocati del detenuto non si arrendono. Insistono, riescono ad accedere agli archivi e passano ore e ore setacciando centinaia di fascicoli. Così, alla fine, trovano quello sull'omicidio di Teresa. Lo aprono e individuano in un sacchetto tutte le prove raccolte nell'auto della vittima. Vestiti, fatto del cadavere, tamponi tra cui quelli vaginali. I detective assegnati al caso in passato avevano provato che Teresa aveva subito violenza intima e adesso i professionisti dello studio legale sperano di ottenere un profilo del DNA dell'aggressore grazie a questi tamponi conservati nel sacchetto da 26 anni. I tamponi vengono inviati al laboratorio e gli scienziati riescono a estrarre il DNA dell'assassino pronti a compararlo subito con quello di Sean e indovinate un po'? Non trovano nessuna corrispondenza. Sean non è l'assassino di Teresa. Per tutti questi anni ha sempre detto la verità e ha passato più di un quarto di secolo in prigione per un crimine che non ha commesso. Il caso di Sean viene quindi revisionato dalla Corte d'Appello e la sua condanna viene annullata nel 18 marzo del 2009. Sean a questo punto ha circa 57 anni. Viene rilasciato dopo aver trascorso 27 anni dietro le sbarre. Quando esce dalla Corte Reale di Giustizia di Westminster c'è una folla ad attenderlo. La stampa è ansiosa di parlare con lui ma Sean non rilascia nessuna dichiarazione. È suo fratello Peter a parlare a suo nome e ringrazia l'avvocato che ha aiutato il fratello combattendo per la sua libertà. A causa di questo terribile errore giudiziario Sean riceve un risarcimento ottenendo un quarto di milione di sterline che lui usa per comprare una casa nella Contea di Durham il posto in cui era cresciuto. Il pubblico è dispiaciuto per il drammatico vissuto di Sean ma i genitori di Teresa non condividono gli stessi sentimenti. Non provano pena per Sean piuttosto sono ancora arrabbiati con lui. Se Sean non avesse fornito quella confessione falsa la polizia avrebbe continuato a indagare e forse avrebbe trovato il vero assassino. Invece i genitori di Teresa sono tornati al punto di partenza dopo quasi 30 anni del delitto della figlia ancora non sanno chi l'ha uccisa. L'assassino ha avuto la possibilità di vivere in libertà e questo li devasta. Ma una domanda sorge spontanea. Visto che Sean è innocente e l'analisi del DNA lo prova lui come diavolo faceva a conoscere così tanti dettagli sul crimine? Sappiamo che era stato condannato principalmente per questo motivo. Durante la confessione aveva fornito delle informazioni che soltanto l'assassino di Teresa avrebbe potuto sapere. Dunque, come le aveva ottenute? Sono state formulate due ipotesi a riguardo perché Sean non ha mai rilasciato nessuna intervista. La prima ipotesi è che Sean si sia affidato al caso riuscendo incredibilmente a inventare dei dettagli corrispondenti alla realtà. La seconda ipotesi è che avesse assistito all'omicidio oppure che avesse addocchiato il veicolo di Teresa e si fosse avvicinato per rubarlo dato che quella notte a Southampton aveva proprio sottratto delle auto. Allora, nel ritrovarsi davanti al corpo senza vita di Teresa per qualche motivo si era convinto di essere stato lui a ucciderla. Ecco perché conosceva dei particolari sulla macchina e sui vestiti della vittima. Personalmente ritengo che questa seconda ipotesi sia più probabile e vi ricordo che quest'uomo soffre di schizofrenia. Sean, tornato libero nel 2009, trova difficoltà ad adattarsi alla nuova vita. Appena l'anno successivo, nel 2010, si scontra ancora con la legge. Viene arrestato dopo che un residente di una casa di cura nella contea di Durham non lontana da dove l'ex detenuto abita afferma che Sean ha esercitato violenza intima su una paziente della struttura. La donna 22enne è affetta da difficoltà di apprendimento e nel marzo del 2011, Sean, pur affermando di non aver avvaluto di lei si dichiara colpevole di averla toccata senza il suo consenso. Stavolta però Sean non riceve alcuna pena detentiva ma gli viene imposto un ordine di prestazione dei servizi alla comunità con sorveglianza dalla durata di tre anni. Tuttavia lui non riuscirà mai a completarlo perché viene a mancare nel 2012 all'età di 61 anni a causa di un enfisema polmonare. Per quanto concerne la cattura del vero assassino di Teresa a seguito dell'annullamento della condanna di Sean il caso viene classificato come irrisolto e riaperto. Aumenta la pressione sulla polizia dell'Hemshire. Gli agenti incaricati della prima indagine avevano mandato in prigione un innocente e ora, quasi trent'anni dopo il delitto, bisogna trovare il colpevole. Io tuttavia non mi sento di condannare i detective che avevano investigato nel 1979 perché avevano fatto del loro meglio con gli strumenti e le tecniche a disposizione in quel momento. L'indagine, una volta riaperta, viene denominata Operazione Iceberg. I nuovi detective assegnati al caso devono riesaminare tutti i vecchi fascicoli, rianalizzare le prove, gli indizi e le dichiarazioni col fine di capire se i colleghi, in passato, avessero tralasciato qualcosa. Purtroppo, pur cercando nel database nazionale del DNA un riscontro con il profilo genetico dell'assassino recentemente ottenuto non emerge nessuna corrispondenza. Bloccata in questo primo vicolo cieco, la squadra investigativa ricorre a un'altra tecnica del DNA per cercare l'autore del reato. Effettua dei test per individuare potenziali parenti dell'assassino che dovrebbero avere un DNA simile a quello del killer di cui la polizia è già in possesso. La svolta si verifica quando il database segnala una corrispondenza parziale con il DNA di una donna presente in archivio perché era stata arrestata per un crimine minore. Ecco, lei potrebbe essere la sorella dell'uomo che ha ucciso Teresa. La polizia indaga sull'albero genealogico di questa donna. Uno dei suoi fratelli salta all'occhio degli agenti per il suo nome, David Lace, già presente nella lista dei sospettati dell'omicidio di Teresa, tra l'altro. Era uno dei tanti uomini che si erano incolpati del delitto della ragazza. Dave è nato il 2 settembre 1962 e aveva 17 anni al momento dell'omicidio di Teresa. Adesso, nel 2009, ne ha 47. È originario di Portsmouth, situata nell'Emshire, a poco meno di 20 miglia di distanza da Southampton. David in realtà ha ben tre fratelli e due sorelle, i quali descrivono la loro infanzia come profondamente spiacevole. Il padre era terribilmente violento e picchiava regolarmente tutti i suoi figli e la moglie. Era arrivato addirittura, pensate, a pugnalarla allo stomaco sei volte e dopo questo evento era stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico, mentre sua moglie fortunatamente si era ripresa del tutto. Nonostante questi risvolti, David aveva trascorso gran parte della sua infanzia nel sistema di assistenza ai minori e a soli 15 anni aveva iniziato a delinquere. Nel 1977 David era stato arrestato per furto con scasso e condannato, ma non a una pena detentiva, per via della sua giovane età. Bensì era stato posto sotto un ordine di custodia fino all'età di 18 anni. Avrebbe abitato in una casa di accoglienza fino al suo diciottesimo compleanno, ma nonostante questo David continuava a commettere crimini, principalmente furti e furti con scasso. Una volta diventato adulto era stato adeguatamente punito per questi reati e nel corso degli anni Ottanta aveva scontato un lungo periodo di detenzione nella prigione di Dartmoor in Inghilterra. Era stato rilasciato nel luglio del 1987 e si era stabilito a Brixton, un villaggio situato nella contia di Devon, dove aveva iniziato a lavorare come pescatore. Adesso ai detetti vi interessa fare chiarezza sulla confessione di David in merito all'omicidio di Teresa. Quando l'aveva rilasciata, cosa aveva detto? Perché era stato escluso dalla polizia durante l'indagine iniziale? Innanzitutto, David aveva confessato nel 1983, più di tre anni e mezzo dopo il delitto della 22enne. All'epoca David era in custodia per un altro crimine quando aveva dichiarato agli investigatori di essere lui l'assassino di Teresa. Questa è la sua versione secondo le fonti. Viveva in una casa di cura di Portsmouth e il 4 dicembre 1979 aveva rubato dei soldi dalla struttura e poi era fuggito. Aveva camminato fino a Southampton percorrendo quasi 29 chilometri. Era arrivato a destinazione in tarda sera e aveva iniziato a bighiellonare proprio nel parcheggio sul retro del pub Tom Tackle, dove lavorava Teresa. Lui era lì presente quando Jenny, l'amica della ragazza, l'aveva riaccompagnata nei pressi della sua auto. Teresa si era incamminata verso la propria macchina e lui aveva deciso di avvicinarsi per derubarla. Aveva bussato al finestrino mentre Teresa sedeva sul sedile del conducente e stava per mettere in moto. Con forza aveva aperto la portiera, si era introdotto all'interno dell'abitacolo e aveva messo la sicura per impedire alla ragazza di scappare. L'aveva assalita intimamente e infine uccisa, strangolandola a morte mediante una delle cinture di sicurezza. Quando Teresa era ormai senza vita, gli aveva rubato dei gioielli e poi era fuggito di nuovo per tornare a Portsmouth. Questa è la confessione che David aveva rilasciato ai detective nel 1983. E ora vi dico le motivazioni per cui la polizia non l'aveva presa sul serio. Innanzitutto David non era riuscito a raccontare dei dettagli corretti, precisi, sull'omicidio di Teresa. Aveva descritto in modo approssimativo l'auto della vittima, i suoi vestiti e la posizione del cadavere. E poi, come sappiamo, David aveva confessato nel 1983, quando c'era già un uomo dietro le sbarre condannato all'ergastolo per quel crimine, Sean Oxon. Quindi i detective erano convinti di aver già catturato l'assassino. David non viene ritenuto credibile fino al 2009, quando i detective scoprono che il DNA di sua sorella presenta una corrispondenza parziale con quello dell'assassino di Teresa. Forse, anni e anni prima, quell'uomo aveva detto la verità, ma servono ulteriori indizi per determinare che è il vero colpevole. Come mai il DNA di David non è registrato nel database nazionale? Anche lui era già stato arrestato. Beh, la spiegazione è che questo archivio, in Gran Bretagna, non esisteva prima della metà degli anni 90. E, come sappiamo, David aveva confessato nel 1983. Di conseguenza, la polizia, nel 2009, prova a rintracciare David. Ma scopre che è morto. Si era tolto la vita nel dicembre del 1988, poco prima del nono anniversario della morte di Teresa. Coloro che conoscevano David affermano che stava lottando contro la depressione nel periodo precedente alla sua morte e aveva tentato di dare via molti dei suoi beni. Emerge adesso che, prima di farla finita, David aveva confessato l'omicidio di Teresa a una delle sue sorelle. Aveva detto di aver ucciso una giovane donna a Southampton e di non riuscire più a sopportare questo peso che si portava dentro da così tanti anni. Non riusciva più a vivere con il senso di colpa che lo stava schiacciando come un macigno. Ecco perché aveva deciso di togliersi la vita. Ora, i detective che lavorano al caso di Teresa si trovano davanti un grosso problema. Come ottenere comunque il DNA di David? Così si rivolgono ai membri della famiglia dell'uomo e chiedono se qualcuno di loro conservi ancora dei vecchi oggetti che gli appartenevano, come una spazzola per capelli o dei vestiti, nel tentativo di procurarsi delle tracce genetiche. Sfortunatamente questa pista è l'ennesimo vicolo cieco. Niente viene recuperato. Quindi non resta che riesumare il corpo di David per cercare di estrarre un campione di DNA dai suoi resti, ormai scheletrici. Il 12 agosto 2009 la barra di David viene disotterrata, portata in obitorio, e il patologo estrae i campioni del DNA dal midollo osseo e dai denti. I test in laboratorio danno come risultato l'esito che la polizia si augurava. C'è una corrispondenza. Eccola la conferma definitiva. David Lace è l'assassino che è rimasto introvabile per quasi 30 anni. Il caso di Teresa De Simone viene così risolto, ma è terribile constatare che il suo assassino non ha mai ricevuto e affrontato alcuna punizione per la sua morte. Al contrario, Sean ha trascorso così tanto tempo in prigione per un crimine che non aveva commesso. Agli investigatori non resta che informare la famiglia della vittima e la comunità. Finalmente hanno identificato il colpevole. Così si conclude il caso di oggi, con un finale forse brusco, che non possiamo ritenere rassicurante o segnato dalla giustizia. La prima vittima di questa tragedia è chiaramente Teresa, una ragazza volenterosa, con una vita tutta da costruire, che stava per ritirarsi a casa con il sorriso sulle labbra, credendo che la sua serata si fosse conclusa nella spensieratezza. E invece l'attendevano un'atroce violenza e la morte. La seconda vittima della vicenda è Sean, che sì, si è cacciato in un grosso guaio da solo, ma indubbiamente la sua mente era offuscata dalle patologie di cui soffriva. È vero però che la sua bugia ha causato tanto dolore a una famiglia in lutto e ha permesso a un assassino di vivere in libertà. A volte penso che se vigessero leggi più severe contro le false confessioni non sarebbero delle pratiche poi così comuni. Tuttavia, come detto, ritengo che la polizia avesse fatto tutto il possibile con i mezzi a disposizione all'epoca. Di certo, i detective sono stati tratti in inganno perché Sean e David avevano lo stesso raro gruppo sanguigno ed erano pure secretori. Entrambi avevano confessato di sentirsi perseguitati dal senso di colpa. Tra l'altro, ancora oggi gira voce che il fantasma di una ragazza si aggiri nel parcheggio sul retro di quel pub che, come detto, ha cambiato gestione e oggi si chiama The Mayflower Village. Voi cosa ne pensate di questo caso? Sono curiosa, come sempre, di leggere le vostre impressioni nei commenti. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate di questo caso. Io non lo conoscevo e mi ha stupito abbastanza quando entrano in mezzo i mitomani in queste storie mi stupisco sempre abbastanza anche se ne abbiamo avuti anche per quanto riguarda l'Italia. Diversi, se non erro. Sicuramente uno, però non ricordo bene in che caso c'era stato il mitomane. Forse per Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, non l'ho trattato sul canale, però è possibile che sia per quel caso lì. Tra l'altro, fatemi sapere anche questo se vi ricordate. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!